Signorina Tirabassi Ossegui, Comendatore Avanti Venga avanti Tirabassi? Si Nome? Agnese Primo impiego? Si, Comendatore Lei non ha mai lavorato in un ufficio? No, no, Comendatore Beh, non importa Tutto sta ad avere le attitudini necessarie Le dirò che nel mio ufficio sono molto esigente con i miei collaboratori Prima di tutto, serietà Su questo punto io non transigo Non transigo perché il resto è una conseguenza Lei mi insegna che la puntualità, l'ordine, il rendimento, la riservatezza Sono figlie della serietà Chiaro? Non prometto nulla, vedremo Stenografia? Dattirografia Beh, lei potrebbe occuparsi del mio archivio Non è un lavoro difficile Tutto dipenderà dalla sua buona volontà di imparare Di collaborare Di affezionarsi al lavoro Perché qui siamo una grande famiglia Tutti per uno, uno per tutti E ci aiutiamo scambievolmente Tutti per uno, uno per la sua buona volontà di imparare